Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì la perturbazione che nelle ultime ore è transitata sul nostro paese si allontana verso la Grecia, favorendo quindi una breve tregua, anche se sul finire del giorno un altro peggioramento giungerà sulle regioni del nord, favorendo quindi un venerdì poi di maltempo ancora su molte nostre regioni. Vediamo la mappa della nuvolosità che ci mostra come nell'arco della giornata transiteranno degli annuvolamenti ma il contesto sarà asciutto su molte nostre regioni, infatti osservando anche lo zoom delle precipitazioni notiamo come qualche fenomeno residuo insisterà tra la Calabria e la Sicilia, comunque miglioramento, mentre nuove piogge poi si avvicineranno a fine giornata sul nord Italia. Vediamo quindi il tempo previsto nella giornata di giovedì sul nostro paese, avremo un contesto nel complesso più asciutto e soleggiato su molte nostre regioni, l'instabilità di cui parlavo prima tra Sicilia e Calabria ma con tempo che andrà migliorando, al nord ci saranno nebbie e nuvole basse con la tendenza poi verso sera a nuovo peggioramento sul Levante Ligure e l'Alta Toscana e piogge che poi si estenderanno anche sul nord Italia dalla serata. Ma per maggiori dettagli consultate l'app gratuita di Trebi Meteor.